Poche considerazioni, il sindaco ha deciso che contrariamente a quanto prevede la legge in una parca non debba più venire a Como perché restringere ai termini in cui ha proposto lo spazio vuol dire eliminare la possibilità della loro presenza e non risponde alle richieste legittime dei circensi quali ritengono come consente loro la legge di avere uno spazio a disposizione ogni anno come da tempo ormai siamo abituati. In una parca e circo appartengono un po' al nostro vissuto di giovani, di adolescenti, di ragazzi e quindi non c'è un motivo per cui ci debba assumere questa posizione. Aggiungo che non si capisce la ragione per la quale è stato posto questo divieto, esiste quindi una illegittimità di fondo nel comportamento del sindaco perché non è possibile non motivare un provvedimento amministrativo. I motivi sono perché l'ho detto in campagna elettorale questa è una non motivazione, è il modo per non dare una spiegazione sulle ragioni per cui con un pregiudizio si oppone a questo genere di attività.